Mario Maggi è stata la prima vittima dell'alluvione di Firenze nel 4 novembre 1966, un nome dimenticato che solo recentemente, grazie agli autori di un volume e all'impegno della figlia, è stato riportato alla luce. Il nome di Maggi non compare nemmeno nella mostra multimediale sull'alluvione dal titolo Arno 66, i giorni dell'alluvione, nel cinquantenario, una mostra visitata da oltre 18.000 persone. Lina, la figlia di Mario, è pronta a chiedere i danni proprio alla regione. Questo è un dato storico che si conosceva già a suo tempo, dice Lina, e da nessuno ha mai messo in dubbio grazie alle ricerche fatte sul mandato della famiglia dal giornalista Franco Mariani, il quale ha potuto appurare che Mario Maggi è stata la prima vittima dell'alluvione di Firenze e non l'operaio Carlo Maggiorelli, il quale morì due o tre ore dopo mio padre. Maggi morì per una frana in via bolognese dove intervenne una pattuglia della polizia municipale e la magistratura apri un fascicolo su tale morte. Il suo corpo, finito nel Mugnone, fu ritrovato dopo tre giorni ancora avvolto nel fango all'obitorio del San Giovanni di Dio. L'episodio è stato ricordato anche a Palazzo Vecchio da una signora inglese che abitava su quella strada e fu un angelo del fango ed è ancora vivo uno dei tre vigili urbani che intervennero sul luogo. Mi chiedo, dice ancora la figlia di Maggi, come mai chi ha curato tale mostra abbia deciso di non mettere il nome di mio padre tra le vittime? Quanto ha speso e investito la regione di soldi pubblici per tale esposizione? Ritengo un mio diritto chiedere alla regione toscana o alla fondazione Sistema Toscana un risarcimento per essersi dimenticati il nome di mio padre Mario Maggi, che non era certo un'opera d'arte ma neanche solo un operaio, un numero. Era una persona di 44 anni che ha lasciato la sua vita nel fango di Firenze, ha lasciato una moglie e quattro figli a cui nessuno ha dato neanche una parola di conforto.